E adesso fateci sognare! Il grido dei tifosi si è alzato in alto verso i giocatori. Piacenza ha finalmente conosciuto la nuova Gassels Blue Energy Volley, costruita per disputare una stagione ad alti livelli. Salone del Palabanka 20 completamente gremito per la presentazione ufficiale della squadra, l'ormai tradizionale sfilata prima dell'inizio del campionato. Una bella serata condotta da Nicola Gobbi e da Christian Reikert, che quest'anno sarà l'animatrice delle gare interne al Palabanka Sport. Gassels al gran completo con lo staff dirigenziale capitanato dalla presidente Elisabetta Curti, applauditissimo coach Lorenzo Bernardi, che avrà il compito di trascinare il gruppo fino in fondo a tutte le competizioni. Poi giocatori, ovazione per Robert Landy Simon, tornato in bianco-rosso e mai dimenticato dai tifosi, e per i tre campioni del mondo Romano, Recine e Scanferla, in un trepudio di core intonati dai lupi bianco-rossi. Gran finale con la presentazione della nuova maglia, che avrà l'effigie della chiesa di Santa Maria di Campagna.